Sono 53.905 i nuovi casi di covid in Italia, secondo l'ultimo bollettino diffuso a livello nazionale. 29.740 quelle che sono diventate negative nelle ultime 24 ore. L'ultimo dato riguardante la regione Sicilia parla di 3.793 nuovi casi, mentre la cifra precedente si attestava 5.559. Nella provincia Nissena si sono invece riscontrati nelle ultime 24 ore 140 pazienti positivi, tutti in isolamento domiciliare. Nel dettaglio si parla di 46 pazienti di Caltanissetta, 39 di Gela, 13 di San Cataldo, 10 di Niscemi, 6 di Mussomeli, 5 di Campofranco, 4 di Butera, 4 di Vallelunga, 3 di Montedoro, 3 di Villalba, 2 di Serra di Falco, 1 di Marianopoli, Mazzarino, Riesi, Sommatino e Sutera. In degenza ordinaria è ricoverato un paziente proveniente da fuori provincia, mentre dalla stessa degenza ordinaria è stato dimesso un paziente di Serra di Falco, guarito virologicamente. Sono invece guariti dal virus 44 pazienti di Gela, 34 di Caltanissetta, 22 di San Cataldo, 11 di Serra di Falco, 5 di Niscemi, 4 di Campofranco, Mazzarino, Santa Caterina e Sutera, 3 di Riesi, Villalba, 2 di Mussomeli, 1 di Delia, Marianopoli, Milena, Resuttano, Sommatino e Vallelunga.